Baruffi Cars, appoggi i ridenti. Gala, Stark, Golden, Red Delicious, Pink Lady, Moody e Fuji. Nomi che suonano oramai familiari e che per la Valtellina rappresentano una delle categorie principe nell'ambito delle raccolte agricole. Parliamo naturalmente di mele, il frutto più destagionalizzato, lo si trova di fatto tutto l'anno. Nella sola Italia se ne contano circa 2000 varietà. È notizia di questi giorni la partenza, anticipata di circa una settimana rispetto alla consueta tabella di marcia, della raccolta del frutto, simbolo di perfezione per antonomasia. Col diretti Lombardia ha infatti reso noto che toccherà alla varietà della gala aprire la stagione di raccolta di questo 2017. Si procederà poi fino ad ottobre con Fuji, Golden, Moody, Red Delicious, Pink Lady e Stark. La ragione di questo anticipo di vendemmia va individuata nelle alte temperature toccate dai termometri di tutto lo stivale, Valtellina inclusa, durante la stagione estiva. Da sottolineare purtroppo un calo produttivo dovuto a quelle tanto citate ed inaspettate, gelate della scorsa primavera e alla grandine estiva, che si sono portate via qualcosa come il 45% della produzione fruttifera abituale. Bruno Delle Coste, produttore e presidente del consorzio Melavì. Abbiamo un 40-45% in meno, almeno un 40% senz'altro come previsto del resto all'epoca subito dopo le tre notti di gelata. Abbiamo stimato più o meno l'evento, il danno che ci ha dato e si sta verificando giusto il calcolo che avevamo fatto prima. Si aggira sul 40%, siamo più o meno 10 giorni però in anticipo sul raccolto, tutto è avanti di 10 giorni, la raccolta quindi viene fatta rispetto all'anno scorso, 10 giorni prima. Quello che c'è è di buona qualità alla gala per ora, poi seguirà la Moody da domani e poi ovviamente sulle altre qualità i nostri tecnici stanno facendo gli esami necessari per stabilire se sono mature, se hanno la durezza, se hanno lo zucchero e l'amido giusti per stabilire la data e il giorno di partenza per la raccolta. Ma le grandinate di quest'estate, per fortuna ce n'è stata una sola nella nostra zona, nella zona di Ponte, dietro al nostro stabilimento, è ancora da quantificare il danno, ecco, purtroppo c'è stato anche quello. Un indotto produttivo davvero importante data l'ampia superficie che i coltivatori della provincia di Sondrio destinano a questa cultura. Dei 1.546 ettari coltivati a mele su tutto il territorio lombardo, ben 1.017 appartengono ai meleti della Valtellina, contro i 199 ettari di Mantova e di 153 del Pavese. Un tesoro dall'inestimabile valore dunque, considerando il potenziale nutrizionale di questo frutto. Un altissimo potere antiossidante, grazie a vitamine importanti come provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E e C, oltre ad acido citrico, acido malico, acido folico. E poi flavonoidi e carotenoidi che fanno della malus domestica, o communis, che dir si voglia, una vera panacea.